È un momento importante che si trova il coraggio, i sindaci di questa zona, una zona dimenticata, soprattutto, mi ripeto, della provincia di Palermo, perché stranamente questa strada della provincia di Palermo, collega i comuni della provincia di Caltanissette, quindi finora non c'è stato mai l'interesse politico di risolvere questo problema, perché praticamente non c'erano voti in questa zona, non si trova, la provincia non c'ha voti, perché è una strada inserita nella provincia di Caltanissette. Oggi tutti concordi, abbiamo preso questa iniziativa, è partita dal Comune di Villalba, ma con il benestare di tutti gli altri, cioè di asfaltare le butte più percolose. A Spesanoscia sarà chiesto un contributo agli imprenditori, all'amministrazione che vogliono partecipare, perché in questo minuto stiamo, sto anticipando io di tasca tra l'asfalto, il trasporto e tutto, ma poi sarà reso pubblico tutte le donazioni contributi che daranno imprenditori, cittadini privati, sarà portato un resoconto, una nota a spesa, sia dall'uscita sia dall'endata. Se le istituzioni oggi hanno fatto questo intervento forte, c'è un motivo, noi rappresentiamo le istanze dei cittadini, non siamo qua a titolo personale, la gente è stanca perché questa strada, questa bretella e non solo questa, ma immaginate, pensate alla SS 121 che collega a Marionopoli con Santa Caterina che è chiusa da 30 anni. Ma questo non è solo un disagio per chi deve raggiungere l'autostrada, perché lo sappiamo tutti questo, ma questa è la fonte e l'inizio della nostra fine economica e sociale, perché se non si riesce ad avere collegamenti per il commercio, se non riusciamo a creare sviluppo perché i TIR non possono raggiungerci, perché non possiamo essere competitivi come territorio, perché qua non si può attraversare alla strada, allora non abbiamo nessuno sviluppo da andare a registrare. I sindaci del vallone dei paesi interessati territorialmente sono qui per dire una cosa, se siamo arrivati noi vuol dire che c'è qualcuno che è assente, perché altrimenti non sarebbe stato il nostro compito che siamo sindaci o assessori o vicesindaci di comuni di altre province. Allora in questo momento stiamo semplicemente dicendo chi è a titolarità per fare questi interventi capisca che oramai siamo in una fase di non ritorno.